hai mai pensato da quando sei sul web su quanti siti diversi sono andati a finire i tuoi dati personali come il nome il cognome il numero di telefono il numero della carta di credito l'email e così via beh probabilmente è impossibile dirlo e sarebbe bello se ci fosse un sistema per saperlo ma la buona notizia è che invece questo sistema c'è sotto forma di un sito che va a fare questa ricerca in mane per noi e ci consente anche di cancellare i nostri dati personali sui siti che non vogliamo più che ce li abbiano andiamo a vederlo insieme ti senti pronto iniziamo entriamo subito nel vivo e andiamo a vedere come utilizzare questo sito per farlo naturalmente andremo ad aprire il nostro browser nella barra degli indirizzi questa qui in alto andremo a digitare direttamente l'indirizzo del sito per non sbagliarci che sei mine app punto com premiamo invio sulla nostra tastiera e verremo portati direttamente sul sito web la prima cosa di cui ci accorgeremo è che questo sito ci chiede la nostra email niente paura se cliccherai su questo pulsante ti verrà spiegato che è importante connetterci alla tua email per poter scoprire quali sono le aziende che possiedono i nostri dati personali in particolar modo questa è una cosa estremamente giusta anche per un altro motivo se chiunque potesse digitare una mail e fare ricerche su quella mail potrebbe andare a vedere tutti quanti i siti su cui questa mail si è registrata ma da tecnico informatico ti dico che spesso queste ricerche riservano sorprese davvero inaspettate se inoltre vuoi un'altra conferma sappi che questo sito ha ricevuto praticamente la massima votazione su trust pilot nel caso in cui non sappia che cos'è trust pilot è una community online di utenti di siti e servizi che possono esprimere liberamente la loro opinione sulla fidabilità di un sito come vedi questo sito è stato garantito come eccellente con quasi il massimo del punteggio da trust pilot e ti dico che in vita mia il punteggio massimo non l'ho mai visto da nessuna parte la seconda cosa di cui ci accorgiamo è che purtroppo questo sito funziona solo ed esclusivamente con le mail di google gli account microsoft oppure gli indirizzi yahoo io in questo caso utilizzerò l'account google ma ti garantisco che la procedura è assolutamente sovrapponibile anche per gli altri account andiamo a fare quindi clic su sign in with google e ci verrà richiesto il nostro indirizzo di posta elettronica andiamo a digitarlo e clicchiamo sul pulsante avanti digitiamo quindi la nostra password e clicchiamo sul pulsante avanti a questo punto ti premetto che è possibile se usi la autenticazione a due fattori che ti arrivi un messaggio sul tuo telefono per chiederti conferma del fatto che stai cercando di accedere con il tuo account a questo sito e ti comparirà questa richiesta naturalmente per poter proseguire dovrai cliccare sul pulsante consenti qui in basso a destra ci troviamo di fronte a un paio di pagine introduttive che ci spiegano che cosa fa questo sito per noi clicchiamo sul pulsante next per andare avanti clicchiamo ancora una volta su next e ci viene fatto un piccolo indovinello ci viene chiesto se siamo in grado di indovinare quante aziende hanno i nostri dati prima di fare questa ricerca se vogliamo giocare con mine settiamo un qualsiasi numero tramite questo indicatore a scorrimento e quando siamo soddisfatti della risposta clicchiamo sul pulsante next ci viene detto che la risposta è all'interno della nostra casella email e che il server di mine andrà ad analizzare solamente l'oggetto della posta elettronica clicchiamo finalmente sul tasto let's go e ci viene dato il benvenuto a bordo quello che dobbiamo fare a questo punto è inserire un nome e cognome che può essere anche naturalmente di fantasia una volta fatto clicchiamo sul pulsante get started e attendiamo alcuni minuti il termine dell'operazione di ricerca ed ecco fatto la ricerca è terminata in questo caso io ho utilizzato una email di servizio quindi è assolutamente normale che ci siano pochi dati che sono andati in giro visto che non utilizzo mai questa email ci viene spiegato comunque cinque aziende sono in possesso dei nostri dati se vogliamo vedere quali sono queste aziende dovremo cliccare su questo pulsante see which companies le cinque aziende in questione sono youtube mine stessa che è praticamente questa azienda qua più altre tre che non hanno fornito i loro recapiti di contatto per vedere quali sono queste altre tre aziende dovremo cliccare su questo pulsante qui e le tre aziende nella fattispecie sono google facebook e linkedin ma come funziona nel momento in cui vogliamo revocare il diritto a qualcuna di queste aziende di continuare a tenere i nostri dati quello che dobbiamo fare è cliccare sul pulsante reclaim al di sotto dell'azienda che non vogliamo che tenga più i nostri dati personali in questo caso io sono andato sotto facebook e sto cliccando il pulsante reclaim vediamo che cosa succede l'azienda viene analizzata e ci vengono date delle informazioni molto interessanti la prima è che le probabilità che facebook venga violata e che i nostri dati vengano rubati e media quindi tutto sommato non particolarmente sicura e che inoltre facebook è stata violata nel 2019 in ogni caso il rischio di esposizione dei dati che vediamo con questo indicatore qui è piuttosto basso si attesta attorno al 2 facciamo quindi clic su reclaim qui su facebook e dopo aver controllato l'esattezza dei nostri dati nella colonna che in questo momento vedi offuscata clicchiamo sul pulsante send request ci viene chiesto qual è l'account che vogliamo utilizzare e ci faremo clic su e acconsentiremo che l'app acceda all'account google come vedi la richiesta viene fatta ogni volta ed abbiamo terminato il nostro lavoro i nostri dati sono stati revocati veniamo informati che ci vorranno un po di giorni affinché la nostra richiesta venga processata possiamo quindi tornare alla finestra principale e continuare con la stessa procedura se ci sono altre aziende in possesso dei nostri dati a cui vorremmo revocarli sì lo so che cosa stai pensando che è un apparente contro senso andare a dare le autorizzazioni ad una app per controllarne delle altre tutto quello che posso dirti è che per come ho testato io mine si è comportata in maniera davvero egregia non ha abusato di nessun permesso e ha fatto un ottimo lavoro di pulizia non la vieta tuttavia che possa fare questo lavoro anche tu autonomamente andando a verificare tutti quanti i siti che ti scrivono e andando a disiscriverti da ciascuno di essi oppure ancora di andare a controllare nel tuo account google quali sono le app che ne hanno accesso e andare a revocare tutti quanti gli accessi che non intendi mantenere ma veniamo a noi perché anche oggi ho dei ringraziamenti da fare a nome di tutta quanta la community e i ringraziamenti di oggi vanno a samuele pierbiffi ed emanuele carignani per essersi abbonati al canale e quindi è un onore per me darvi il benvenuto nel club dei gentiluomini ma detto questo come d'uso l'ultimo ringraziamento è sempre quello riservato proprio a te che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia e per questo ti mando il mio saluto e ti do come di consueto appuntamento alla prossima